Grazie Presidente, sì, in obiettivo voto disciutto anche per me, voto favorevole, per un motivo molto semplice, la soluzione per la società, la firma del precedente sindaco è stata la soluzione, ma per il partito democratico, non per i cittadini di Misano, è per questo che io sostengo la mozione del consigliere Monchi. Un'altra cosa, come scopo di riflessioni, credete seriamente che a Cattolica, con tutto quello che è successo, possano solamente, visto che ci sono le elezioni di nuovo, solamente pensare di rimettere in discussione in qualche cosa come la Statale. Grazie.